di sapere se è possibile ecco vediamo sono qua ai quattro canti siamo qua ai quattro canti buonasera Leo Luca viva Palermo e Santa Rosalia buonasera viva Palermo e Santa Rosalia volevo chiederti una cosa Leo Luca ti ho visto particolarmente emozionato la tua voce anche se sempre forte e stentorea in certi momenti mi è sembrata proprio particolarmente emozionata è vero o no? quando gridavi viva Palermo, viva Santa Rosalia viva Palermo Campina a me vengono i brividi a pensare com'era Palermo com'era Palermo vent'anni fa trent'anni fa, quarant'anni fa paura e vergogna e oggi è veramente